Musica Ennesimo incidente sul lavoro. L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 20 aprile, intorno all'8.30, la regia polietilene è situata in via ex internata a Salassa. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la croce rossa di Castellamonte. Un operaio, Salan Selamani, 50 anni, di origine marocchina, residente a Fabria, dipendente dell'azienda da una decina di anni, stava pulendo il cortile. Quando i colleghi che lo stavano cercando per un'altra mansione, spostando alcune balle di materiale, lo hanno trovato sotto, schiacciato dal peso, purtroppo già deceduto. Sul posto anche i carabinieri di Rivarolo Canavese, Quornier e lo Spresal dell'Aselto 4. Anche il campisto. Questa è la fina. Sesta. Sesta. Questa è la fina. Sesta. Sesta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.